il colloquio di assessment è lo spettacolo che portiamo in scena al teatro umberto giordano di foggia un testo di drammaturgia contemporanea che tratta il tema del rapporto tra i giovani e il mondo del lavoro in modo divertente e dissacrante una commedia una commedia forse un po amara ambientata durante un assessment un colloquio di selezione di gruppo in una importantissima azienda sei candidati dovranno scontrarsi collaborare tra di loro per cercare di affermarsi sugli altri prendete pure posto grazie siamo un po in ritardo l'impegno di oggi prevederà una prima fase di assessment più tardi verranno richiamati coloro che tra di voi se ce ne saranno avranno superato la selezione e lo spettacolo è molto divertente pieno di colpi di scena messo in scena da una compagnia di otto bravissimi attori interpreto in questo spettacolo che è una commedia un po all'inglese americano a due sassone il personaggio di aldo mascagni che è un frustrato che vive un complesso di inferiorità nei confronti della madre che li crea un sacco di problemi che a un certo punto esplodono schizzano lì c'è questa specie di attacchi di rabbia e fa delle cose che non vi posso dire perché sennò faccio spoiler sono subito una comedia che affronta come diceva il buon marco il tema del rapporto con i giovani e il lavoro in questo momento quanto più l'attualità possibile perché adesso insomma il tema gira attorno ai colloqui manageriali comunque sì il tema del lavoro dicevamo è molto importante è molto importante cercate lavoro perché noi attori siamo assai il mio personaggio è un po particolare perché è una donna una giovane donna piuttosto puntigliosa un odiosetta quello che ci arriva dal pubblico è sempre quello che poi effettivamente portiamo a casa che ci dà la carica per affrontare questa questo percorso che è quello della vita attoriale che devo dire piuttosto complicato il colloquio di assessment vi aspettiamo a teatro